Ho iniziato un altro video lo puoi dire Era il fine video e non lo potevi dire Nessuno avrebbe visto Avrebbe sentito Vai veloce che ci siamo a 10 secondi Non lo farò mai Mentre inquadro la tua tetta Sta diventando un porno lentamente No Vabbè comunque Se vuoi Mi allontano Non ti sente la tua voce Se ti allontani Ma tutti i fan se lo vogliono sapere Scrivono altro nei commenti Ti prego voglio sapere qual è il profilo YouTube Esatto Puoi finta che nessuno ti sta riprendendo E' gente che fa video Su cose che Già fa Che farebbe comunque Anche se non facesse dei video Non è gente che fa video per video Metterli su YouTube Non mi devi molestare Non lo so Lo sai cosa mi stai ricordando in questo momento E' la puntata di South Park In cui c'è Cartman Che praticamente è impazzesco Che praticamente diventa Diventa YouTuber E comincia tipo a spararle su chiunque E' la presentata puntata Cioè il riquadro di Cartman è sempre qua E' lui che va dicendo Cioè uno parla E lui comincia a fargli pernacchie Cosa Senza senso La gente esprime un concetto Esatto E' quello tipo Di età là A rompere i coglioni E basta E questo ha senso Puoi fare il disturbatore Di Alfa 1 Alfa 1 Vero perché non Riprendi Fai un video E riprendi la televisione Tipo qualcosa E mentre gli parli sopra No ma non